Ma da molti mesi ha avuto una figlia, la quale si sposerà da altri figli di lei e di rispondere. E vi parlava di una generazione di vite che sono partite dal momento in cui il suo donatore ha deciso di donare quel peggio. Una cosa straordinaria. Che bella società è questa. Allora, ragioniamo un po' tutti e cerchiamo di vedere l'altro come una parte di noi. L'altro non deve essere un antagonista. Quello da abbattere, quello da sovraffare, quello da sfruttare, quello da usare. L'altro lo dobbiamo vedere come una parte di noi stessi. È come se io facessi del male a me stesso. Allora, se io mi metto in questa condizione, io sono solidare con l'altro.